Il governo Renzi dice che l'Italia è sull'orro del baratro e che la soluzione è andare avanti tutta con il sì. Noi pensiamo che sia più prudente fare inversione di rotta, è più saggio cambiare strada, perché la strada che abbiamo percorso fin qui ha creato disuguaglianza e ingiustizia. Se vogliamo davvero cambiare l'Italia mai meglio, ora è il momento di dire no. Grazie a tutti.